ciao ragazzi buon sabato sabato di milan sabato di partita sabato di lecce milan adesso ne parliamo anzi abbasso la voce se non sveglio tutti un mi piace se vi piace il video un'iscrizione se vi piace il canale la campanella per le notifiche mi raccomando iscrivetevi non vi costa nulla quindi stasera si gioca ore 18 siamo in campo inutile dire che abbiamo un solo risultato abbiamo solo la vittoria anche visto quello che è successo ieri sera in juventus napoli dobbiamo vincere dobbiamo portare a casa i tre punti dobbiamo assolutamente vincere come lo faremo lo faremo con orighi e chiaro in panchina con la sostituzione di tonali probabilmente con branks quindi la formazione che scenderà in campo questa sera dovrebbe essere data rusano calabria caluruto mori teo ben a ser francs messias a destra diaz leao e giro questa dovrebbe essere la formazione che scende in campo qualcuno sostiene possa giocare pobega io pobega l'ho osservato bene anche l'altra sera in milan torino e devo dire che non può giocare nei due di centrocampo perché lui lui sbaglia sempre primo controllo lui il primo controllo lo fa sempre molto lungo fatici caso io l'ho notato l'altra sera dallo stadio lui quando riceve palla il suo primo controllo tende sempre ad allungarsela quindi è rischio perdita palla rischio fallo infatti fa molti falli pobega per questo motivo quindi pobega secondo me se deve giocare può giusto giocare da incursore come finto 10 ma non può giocare nei due di centrocampo quindi io penso e mi auguro giochi branca al fianco di ismail ben a ser fresco di rinnovo quindi questa dovrebbe essere la formazione in panchina dovremmo avere sia orighi che chi è sono stati convocati quindi insomma avremo qualche scelta in più anche se non so quali saranno le condizioni dei due giocatori fermi da parecchio tempo ismail ben a serra rinnovato mi aspettavo dai giornalai che per mesi e mesi e mesi e mesi hanno attaccato il milan perché non sarebbe mai stato in grado di rinnovare ismail ben a ser mi aspettavo insomma qualche qualche titolo in più qualche franfare in più sul rinnovo di isma ben a ser ma ovviamente quando si parla del milan si tende a buttare fango quando c'è da buttare fango ad attaccare appena c'è il minimo quando si tratta di elogiare il braccino è corto e quindi volevo chiedere ai signorotti della carta stampata ha rinnovato screener sport media set redazioni dei giornali infarcite di uomini di occhio di lince ha rinnovato screener quando rinnova screener screener dal primo febbraio può firmare con chiunque è libero di firmare con chiunque dal primo di febbraio tra 15 giorni 18 giorni 17 quelli che sono ne parliamo stampa oppure si può se è solo divertente la fase di attacco al milan di attacco a tutto ciò che riguarda il mondo rosso nero mentre deve essere difesa difesa compatta e unita per quanto riguarda occhio di lince la sua compagnia è ora di finirla questo è ora di finirlo questo tran tran che insomma oramai è abbastanza palese no abbastanza chiaro cioè non è che si può sempre attaccare da una parte e sempre difendere dall'altra poi girano anche a noi è perché noi saremo usciti col torino giocando una partita insufficiente diciamo insufficiente ma siamo usciti col torino gli uomini di occhio di lince sono passati col parma parma sappiamo come ma non ho visto critiche non ho visto critiche a in zaghi in zaghi sopravvalutato non sopravvalutato non sopravvalutato bravo o sopravvalutato non ho visto critiche a in zaghi non ho visto critiche alle seconde linee nera assurde non le ho viste queste critiche bello criticare solo il milan è bello leccare i piedi a occhio di lince vero comunque noi vi aspettiamo sempre al barco l'importante è che stasera i ragazzi giochino con la rabbia giusta con la cattiveria giusta con la compattezza giusta sogno di finire una partita anche 1 a 0 ma senza subire gol anche 1 a 0 mi basta 1 a 0 voglio soffro fino all'ultimo ma cerchiamo per favore di invertire questa tendenza di prendere sempre gol cerchiamo di evitarla se non prenderemo gol sarà quasi matematico quasi perché ho ancora cremonese nella cremona e cremonese nella testa se non prenderemo gol il 90 per cento 99 per cento la vinciamo ma non bisogna prendere gol quindi attenzione determinazione il campo a lecce è brutto è grosso e questo potrebbe favorire aprire degli spazi per per le au però è brutto quindi loro la metteranno sul piano agonistico e cercheranno di metterla sul piano più con generale loro noi dovremo avere pazienza ma molta determinazione colpire quando c'è da colpire perché non si può fare 36 tiri in porta col torino e non riuscire a fare un gol cioè inammissibile è veramente inammissibile su questo ragione mister pioli l'ha sottolineato in conferenza stampa ieri non si può fare 36 tiri in porta e non fare un gol al suo quindi cerchiamo di avere anche per segnare bisogna avere cattiveria il gol è un qualcosa che va va cercato va chiamato va in zaghi chiunque della mia generazione ha visto giocare pippo in zaghi giusto non in zaghi sbagliato in zaghi giusto lo sa che non era un fenomeno che tecnicamente non era eccelso ma lui bramava per il gol lui aveva un rapporto viscerale col gol gol lo chiamava e il gol chiamava lui lui sapeva sempre dove stare in che posizione stare come tirare la palla anche sporca ma sapeva come fare il gol perché amava il gol perché lo chiamava lo sentiva dentro di sé giro un po ce l'ha questo le ha o no le ha o no ne abbiamo parlato ieri le ha o non ce l'ha questo lui non 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 ha questa passione per il gol non cerca il gol con la feroce determinazione e con cui un attaccante vero deve cercare il gol e per questo alla fine è discontinuo è un saliscendi speriamo che stasera sia nella fase alta che ci sia impegno che ci sia determinazione che si vinca per poter preparare poi al meglio la partita di mercoledì contro i nerassurdi di occhio di lince che ovviamente recupereranno tutti gli infortunati abbiamo visto le notizie di oggi tutti già abili e arruolati perché non si perdono nelle nebbie di milanello si vede che a piano gentile il clima è diverso quindi ragazzi da sera come al solito ultimi cinque minuti e poi commento la partita mi raccomando tutti stretti intorno alla squadra tutti vicini alla squadra forza milan forza lotta vincerai non ti lasceremo mai buona giornata ragazzi buon sabato in attesa del grande milan ciao ragazzi